Si parte in salita a meno di una settimana dalle riaperture delle scuole. Il governo accelera sulle linee guida per la riapertura delle sedi. Sul tema dei trasporti già ci sono le prime indicazioni. Per salire sugli scuolabus bisognerà prima misurare la febbre a casa e a bordo sarà consentita la capienza massima solo per un tragitto che dure un massimo di 15 minuti. Se un alunno o un insegnante è positivo, il referente Covid fornirà la lista dei contatti stretti all'ASL che inizierà il cosiddetto contact tracing su tutte le persone con cui è stato in contatto nelle ultime 48 ore. Compagni, insegnanti, operatori scolastici e gli ambienti saranno sanificati. Saranno messe in quarantena tutte le persone chiamate dall'ASL per 14 giorni. Se il contatto dovesse riguardare l'intera classe sarà attivata la didattica a distanza. Didattica mista, invece, se in isolamento ci fosse solo una parte del gruppo. Se poi la situazione dei contagi dovesse rivelarsi più estesa, si tratterà di un focolaio e come tale sarà gestito. Se invece un alunno è in quarantena per un contatto stretto con positivo esterno alla classe di appartenenza, un contatto di un fratello, di un genitore, di un corso pomeridiano o per i compagni non ci sarà la profilassi. La temperatura la dovrà misurare il genitore a casa per evitare, si legge nelle linee guide, che i bambini ammalati escano, ma alcune regioni hanno previsto la misurazione anche all'ingresso. Non saranno previsti tamponi rapidi al momento, l'Istituto Superiore di Sanità non li ritiene efficaci per le scuole. Nuovi provvedimenti che però dovranno essere condivisi. Per questo il lavoro dell'esecutivo prosegue sul fronte del dialogo con i governatori, molti dei quali sul piede di guerra. Roberto Lagalla, assessore regionale all'istruzione, firma una circolare per far slittare la riapertura delle scuole dal 14 al 24 settembre. Tutte le scuole però che sono sede di seggio elettorale. Tenuto conto che in Sicilia ci sono circa il 40%, le scuole sede di seggio elettorale, si può calcolare che oltre 1.500 scuole resteranno chiuse e apriranno a data prestabilita. Visto il periodo di emergenza Covid, la misura decisa dall'assessore potrebbe servire a risolvere alcuni problemi a cui si potrebbe andare incontro per aprire e dopo qualche giorno richiudere le scuole, considerato che occorre sopperire ai vari problemi di natura elettorale e di significazione delle strutture, post e dopo elezioni. Tra l'altro, nonostante le resticurazioni del ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina, non si hanno ancora certezze sulla consegna dei banchi monoposto, sulle unità di personale aggiuntivo richieste dai capi d'istituto, che dovranno essere assegnate alle scuole per far fronte alla riduzione degli alunni per classe. Intanto la ministra assicura che le scuole riapriranno. Intanto, nelle ultime ore è intervenuta anche la deputata nazionale del Movimento 5 Stelle, Maria Lucia Lorefice, che anche in qualità di presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, Da settimane sta lavorando in sinergia con il ministro Lucia Azzolina. È chiaro che qualsiasi scelta dipenderà dai contagi, evidenza la parlamentare Iblea, ma la riapertura delle scuole è una nostra priorità e deve avvenire in sicurezza.